I negozi... Jack! Ehi! Scusate! A quel rumore! Sono una fine canaglia! Ehi là! C'è nessuno! C'è nessuno? Ho sentito una voce. Proviene da quel pozzo. Potresti aiutarmi? C'è qualcuno laggiù? Laggiù? Ma come? Ci sono io! E nessun altro! Un soggetto ignobile mi ha lanciato un pezzo di pergamena che... È rimasto incastrato! Lo potresti estrarre? Sembra una specie di mappa. Grazie! Grazie davvero! Che sollievo! Spero che la mappa ti torni utile! Più che a me perlomeno! No, no, no... No, no, no! No, no, no... Quell'albero ha qualcosa che non mi convince Vingardium Leviosa! Leviosa! Un modo interessante per nascondere un tesoro Autore dei sottotitoli e revisione al canale